E' stato arrestato dalla polizia il sedicenne di Eboli che lo scorso 7 ottobre ha aggredito e ferito un suo quatano nei pressi dell'istituto alberghiero Ferrari di Battipaglia, colpendolo con un coltello lungo 16 centimetri. Per l'aggressore è scattata la misura cautelare della custodia al carcere minorire di Nisida, emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Salerno. Le indagini già il 7 ottobre avevano consentito di trovare in un tombino lungo la strada il coltello usato per l'aggressione. Erano state inoltre raccolte numerose e concordanti dichiarazioni dagli stessi compagni di classe di entrambi, nonché molti messaggi dal social network Instagram da cui si deduceva da tempo la premeditazione dell'aggressione e la successiva rivendicazione con quanto accaduto. L'accoltellatore è stato quindi arrestato e sottoposto alla misura cautelare della custodia al carcere minorire di Nisida a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile.